ragazzi allora iniziamo con questo video dove approfondiamo su diversi temi perché io sto parlando indicato ok ora possiamo anche finire su ultime due partite perché la domani ci sarà la coreografia in occasione per i eventos milani ok e di questo mi fermo perché è una buona serata di caccio e si vince ok caro ma ora se devi rimanere allora devi portare a casa i due risultati positivi va bene poi nello prossimo non gira uno scudetto te lo dico da mo perché tu devi far vincere movimenti se vogliamo continuare con te perché sulla notizia di galeole ha detto che che rimane al 100% allora tu fai parte della società e non dico per me ma è la società che decide il futuro dell'allenatore perché non mi puoi togliere ad un allenatore così del genere dopo quello che ha passato tutto con i campioni o senza campioni ok ad esempio poi arrivati che dirà il guai ronardo di barra manzo piccio e di tutto quindi questo è il fatto di oggi quindi mi raccomando e spero che ci siamo capiti con questa teoria e qua do ragione all'allenatore che siccome io l'ho criticato a volte io ho sbagliato che siccome allegri resterà al 100% è la sua responsabilità perché tutti siamo responsabili è vero però fa parte del caccio questo perché questo si tratta ok quindi questa è la pronuncia iniziale nel video va bene e quindi iscrizione al canale cari miei e non mancate la partita di domani sera quindi mi raccomando lasciate anche le notifiche per non perdere i prossimi contenuti quindi state sempre attivi qualsiasi notizia che vedo io me lo ripropongo e mi farò ok quindi questo è il mio pensiero nella partita di domani quindi like e commenti per la partita di domani sera ora 25 mi raccomando e sempre fino alla fine ragazzi perché è importante questa cosa ok e poi c'è un'altra cosa fondamentale che se come il milano è una bella squadra che sa giocare allora noi prendiamo questa avversaria perché sa giocare a calcio e che sa pure oppure giocare nei momenti di difficoltà ma noi ce l'abbiamo le difficoltà in campo perché è la squadra che va messa prima in campo poi viene la formazione e poi vengono i risultati sul campo quindi devono dare risposta a queste critiche va bene perché noi non stiamo in profonda crisi come abbiamo fatto ok quindi la profonda crisi è quando ci hanno messo i punti di penalizzazione della 20 gennaio dell'anno scorso ma al fine del campionato ce l'hanno rimessi i punti di penalizzazione della vita e questo non mi sta bene e quindi dobbiamo stare tutti compatti e tutti uniti ok quindi questo è quello che ci collegano veramente alla Juventus perché dobbiamo stare insieme con la Juventus ragazzi si tifa per la Juve quindi quindi la Juve è una bella squadra però non giochiamo i giocatori è vero ma se giochiamo con questo danno un gioco di allegri allora è coppa di Maria forse è coppa di Benovic si è coppa di Chisa no è per coppa di Cisnini se parla così in polacco oppure se non capisce bene l'italiano è vero ma su ma no quindi sono diverse le cose Gatti è venuto alla Juve sì, perché stava a Frosinone allora perché la Juve non vince perché non abbiamo le qualità in campo porca Mosè quindi quello ci manca le qualità nel campo ci sono le qualità dei giocatori se ci vogliamo prendere al sogno del quarto posto quindi vinceremo queste due partite e non fatevi errori ok? perché se dobbiamo giocare la squadra allora dobbiamo stare tutti uniti con la squadra va bene? e incitiamo a questi ragazzi carichiamo l'ambiente e carichiamo anche la squadra piuttosto in cui disputare merda sulla Juventus ok? quindi questo è tutto mi raccomando e fate un momento di riflessione con questa se non giochiamo alla mentalità allora possiamo andare a giocare a quei campionati ok? che si fanno anche la superlega allora io devo accettare la superlega quando quando ecco mi ha detto di no a ceferino che non mi può passeggiare con la superlega e in culo a questi qua che ci hanno infatti i punti di penalizzazione prima c'è una sola cosa sull'avoc questi qua e me chi che ci stanno zitti e vanno a tappare qui avoc ok caro mio ceferino quindi ti ho spiegato mi ne volte quel ragionamento ieri sera perché tu non l'hai capito e te lo rispito oggi perché la superlega si fa perché la juventus sta dentro e tu non la puoi escondere ok? questo è il mio pensiero e rimarrà così però l'avimentus potrebbe terminare? sì allora andiamo a 62 punti ok? io sono io e vicino se ci crediamo allora crediamoci tutti insieme e ci dobbiamo prendere ragazzi crediamoci tutti insieme ok? quindi l'unico obiettivo è da venire questa partita e mantenendo il quarto posto ok? consolidiamo il quarto posto più i 69 punti fatti resteranno nella storia e può continuare così in un ciclo dell'anno prossimo quindi sta giunto lì fuori sta giunto lì fuori sta giunto lì fuori quindi da domani sera non mancate fino alla fine sì sì